effettivamente è molto difficile da descrivere e da definire perché è un disco estremamente eclettico quindi ha veramente tante influenze forse la sua definizione più giusta è proprio questa parlare delle sue influenze e del fatto che poi effettivamente in realtà un'anteprima del disco vero e proprio è una sorta di preview di preascolto del disco vero che uscirà dopo l'estate tant'è che si chiama morsi proprio perché gioca su questo concetto dell'anticipazione e la sua realizzazione di fatto è avvenuta insieme agli altri pezzi del disco perché è effettivamente semplicemente uno spoiler quasi no del disco stesso e di conseguenza il processo di realizzazione è lo stesso del disco quindi forse questa domanda è difficile da è difficile trovare una risposta proprio per le p il processo più che altro di scelta del fare un disco un ep come questo è proprio la questione della presentazione dell'artista credo che comunque per un artista emergente come me sia difficile far uscire un brano è un disco intero ed è difficile magari che la gente se non ti conosce si ascolti 12 tracce o 13 quanti sono insomma i brani di un disco magari dare qualche assaggio dare le pillole della mia musica piccole dosi forse era era la scelta più giusta ecco il videoclip di repito è stato anche questo un odissea in realtà come tutti i videoclip che ho fatto più o meno è sempre complicato quando quando sei giovane quando non hai grandissime finanze riuscire a fare il tuo film mentale più che altro farlo diventare realtà e devo dire che è partito da un'idea completamente diversa che poi invece ho tenuto nel visual che era questo barbecue di carne umana di queste due tipe che che scappavano quindi in realtà il concetto cioè l'elemento telma louise c'è sempre stato ed è rimasto però queste due tipe in teoria sarebbero dovute andare a fare con questo barbecue da mezzo al deserto su barbecue della carne del tipo che aveva ammazzato questa cosa non è più successa però quando conosciuto gufi i gufi sono appunto questo duo di registi molto bravi siamo visti abbiamo sentito il pezzo e michele uno e due registi metto sai che ho scritto un corto un soggetto per un cortometraggio in cui c'erano queste due tipe che pulivano non so e poi si scopriva che pulivano la scena il cadavere non so perché mi è venuto in mente di che potremmo usarlo per questa cosa e ho detto non ci credo guarda un'idea geniale perché in realtà io sono fissata con l'azione no l'azione come gesto evocativo e quindi anche il pulire poteva diventare un ballo e quindi ci siamo subito presi su quest'idea e poi da lì allora hanno scritto tutto il video con degli input magari che gli ho dato io gli ho mandato una serie di video mentre pulivo e ballavo e facevo tutti i movimenti e niente quindi più o meno è andata così però ogni video poi è nato in maniera diversa però sempre da un grande lavoro di brainstorming insieme ai registi allora come ogni artista dirò questa grande massima che la mia più grande soddisfazione non ho ancora raggiunta come quando ti dicono qual è la migliore canzone che hai scritto quella che devo ancora scrivere ma però è vero nel senso devo dire che non riesco a trovare una di soddisfazione forse la più grande soddisfazione aver trovato qualcuno che ha il mio management di Schibelli che crede in me e che mi ha fatto poi conoscere tutte queste persone e che stanno dietro al progetto che effettivamente mi aiutano a farlo diventare realtà da che era semplicemente un embrione costruito assieme a effettivamente le persone che mi hanno da sempre aiutato ovvero BB Prod Benjamin e Alessandro mi hanno da subito dato una mano mi hanno da subito adottata ok abbiamo creato questa cosa insieme poi ovviamente per forza di cose alla fine loro faranno i produttori di questo progetto e io farò l'artista del progetto però è nato proprio come una cosa insieme cioè non si sapeva dove stavamo andando è nato proprio così l'armata Branca Leone che andava in battaglia così a scrivere canzoni random però appunto sì la più grande soddisfazione personale che ho è di lavorare con gente che mi stima e che fa veramente di tutto per me credo per ora la più grande soddisfazione invece a livello di carriera diciamo è vedere che effettivamente quelli che mi seguono sono pochi però quei pochi che mi seguono sono veramente stra fan e mi scrivono delle cose veramente bellissime e non me l'aspettavo cioè non mi aspettavo di avere un ritorno così bello da parte di alcune persone ecco proprio così intenso non so se ci sono stati dei momenti specifici in cui mi sono sentita sola e non supportata però diciamo che nella carriera ecco di momenti così ce ne sono stati tanti nella vita soprattutto recentemente per il lockdown ecco forse è stato il momento in cui effettivamente mi sono sentita di non avere tanto da dire di non avere proprio stimoli perché questa chiusura di quest'anno è stata veramente deleteria molto più deleteria di quella dell'anno scorso che comunque è stato solo un momento di pausa in cui tutti abbiamo pensato un po' ai fatti nostri perché io ho scritto tantissimo per esempio perché era una novità e invece quest'anno è stato veramente un anno sedato in cui si potevano fare poche cose quindi comunque un assaggio di libertà ce l'avevi però era una libertà finta quindi è stato veramente triste iniziare ecco il percorso in questa modalità senza poterlo condividere proprio fisicamente con la gente che poi è la cosa che penso mi va più di fare e mi interessa di più e mi piace però di alti e bassi ce ne sono sempre mille di insicurezza ce ne sono sempre tanti ma credo ogni persona che fa questo lavoro non so che ci prova come me cioè vive una vita diciamo in alta lena però vabbè fa parte del gioco e anche giusto perché ti tiene con i piedi per terra non non ti fa pensare di essere chissà chi perché alla fine poi a livello artistico secondo me se non ti metti in discussione poi non evolvi non credo ci sia un ingrediente segreto è sicuramente un pezzo più facile più diretto più naturale più genuino quindi ero convinta che sarebbe piaciuto di più sarebbe arrivato di più rispetto a brani un po più elaborati tipo morfina che effettivamente è un brano un po più difficile e anche forse un po più ostico da ascoltare che comunque è un po violento all'ascolto niente di assurdo però rispetto a spreco di potenziale che è un po più universale secondo me comunque quando c'è il sentimento di fondo e quando lo scrivi e la gente lo ascolta è più facile attecchire nei cuori perché alla fine sono cose che proviamo tutti e sono cose che toccano tanto tutti più di il fomento di ballare sulla cassa dritta secondo me cioè l'emozione è sempre l'emozione e se c'è forse un ingrediente segreto tra virgolette c'è la chicca del pezzo secondo me il ritornello e il fatto che la prima parte svuota no? cioè solo il pianetto con e poi dopo parte tutto secondo me quella è proprio la cosa che ti fa dire ok questa cosa musicalmente funziona però ecco secondo me quello è il pezzo che sembra strano da dire perché ci sono un sacco di pezzi mega prodotti con mille cose, mille suoni pazzeschi però quello secondo me è la giusta è proprio il pezzo più bello che hanno prodotto che insomma abbiamo fatto insieme poi in realtà perché l'abbiamo fatto molto insieme anche se l'hanno fatto loro ovviamente BB Prod credo sia il pezzo più riuscito perché hanno curato veramente l'equilibrio di tutti i suoni tra loro che sono pochi ma sono quelli giusti che dovevano andare al punto giusto nel momento giusto è stato veramente un brano al quale abbiamo dedicato molto tempo secondo me anche per i cori che sono cioè niente di speciale però effettivamente ripensandoci l'abbiamo curato moltissimo e secondo me questa cura si sente perché tra tutti è quello che è proprio giusto così non poteva essere diverso secondo me ok sto per fare questa rivelazione sì in realtà l'ho fatto io X Factor quando avevo 16 anni ovviamente non mi hanno presa ma grazie a Dio ma io penso non ci sia nulla di male ad andarci perché è una grande vetrina però se ci devi andare ci devi andare quando hai già un'identità tua artistica quando sai già cosa vuoi fare quando hai già magari dei brani tuoi che vuoi portare in trasmissione cioè quando diciamo possono avere poco margine di cambiamento su di te cioè tu devi essere secondo me con un'identità chiara ti presenti là con un'identità chiara che è la tua e così non possono cambiare nulla altrimenti se la trovano loro eh là diventa complicato perché ti cuciono un vestito addosso che non è il tuo e che rischia di diventarti stretto poi magari invece ci beccano e ti leggono il pensiero e sono perfettamente in grado di capirti però insomma di base poi secondo me finire così in bocca al pubblico nell'arco di un mese deve essere faticosissimo stressantissimo io penso accuserei tanto sia in megalomania che in depressione invece ansia e cose varie in tutti e due i campi quindi per il momento non mi sento di dire ah lo farei però anche se ho fatto la posizione ma vabbè ero piccola avevo il mito un po' no di X Factor vabbè ce l'abbiamo tutti dai allora assolutamente sì ci sono tantissimi artisti con cui farei delle cose non soltanto musicali cioè mi piacerebbe collaborare con stilisti con registi con pittori ma veramente qualsiasi cosa si può fare io a livello artistico ma anche no non per forza non lo so veramente una linea di mobili ma chissà prima o poi la farò anche se pure quella è un art design vabbè comunque a parte ciò artisti musicali ce ne sono infiniti anche quelli e il sogno più grande della mia vita che non si realizzerà mai è fare un pezzo con Nati Peluso ecco però tanto so che è un sogno che rimarrà nel cassetto e quindi perché non dirlo tanto quella cosa no che i desideri non si avverano se li dici è una cavolata cioè nel senso è vera magari ma non con desideri veramente impossibili tipo questo quindi diciamolo allora per quanto riguarda i live ovviamente i luoghi non li decido io perché decide la booking in base a dove ci chiamano credo funzioni così non lo so mi pare funzioni così per il set ci sarà quest'estate sicuramente un set in duo un po' acustico in una formazione cioè un set sia acustico piano e voce tutti i pezzi riarrangiati fichissimi secondo me me lo dico da sola lo so però è vero e un altro invece un po' ibrido anche con delle sequenze quindi anche un po' ballabile che richiama un po' di più i pezzi veri all'evalo di produzione e poi probabilmente dall'autunno ci sarà invece qualche data in trio sicuramente dall'autunno all'inverno in poi quando uscirà il disco sicuramente saranno almeno in trio spero anche di più ma insomma non lo so però sicuramente saranno in trio synth pianoforte robe varie e batteria ecco e non vedo l'ora di poter fare delle esibizioni perché mi manca moltissimo il contatto col pubblico devo anche ovviamente riabituarmici perché non solo non l'ho fatto io in prima persona per tanto tempo visto il lockdown ma non ho assistito ad altri concerti per tanto tempo e come potrete immaginare qualsiasi persona fa questo mistero e si ciba anche degli altri del rubare idee e ispirazioni ecco quindi non vedo l'ora e già da quest'estate si partirà quindi sintonizzati a Grazie a tutti.